Tre falli per Lee Ancora in panchina Coach Garelli ovviamente non può rischiarlo Che non vediamo però Neanche in panchina Insufficiente la sua prova stasera Young Fuori due avversari Serve Ie e Brian Palla ancora per Maney Cinque secondi Arresta e tira di Meini E canestro E forse c'è anche il fallo Occhiattaccia Meini al direttore di Ma Maestrello e Meini Fin qui hanno dato un'iniezione di energia Alla causa orogranata Meini chiama lo schema Potrebbe sfruttare il mismatch Su di lui c'è Rinaldi Meini parte in palleggio Li libera Spazio Brian Si arresta Meini Griffa il più nove Con il quale finisce il primo quarto 26 Prandin prende la tripla La palla lanza sul ferro Il rimbalzo Nelle mani di Clark Eroico Clark Con questo rimbalzo Slay in capo aperto Ribalta per Young Rifiuta il tiro Si appoggia a Meini Che se lo piglia Esplode il taliercio Più nove E mi sa che questo È il canestro più importante